Secondo anno alla guida della nazionale italiana di mountain bike per Mirko Celestino. Tante soddisfazioni, pochi giorni fa una vittoria importante ai campionati europei. Siamo appena rientrati dall'Austria, da Grazze, dove si sono svolti i campionati europei under 23 e junior. Abbiamo conquistato tre medaglie molto importanti. Erano anni che non si riuscivano più a conquistare successi così di alto livello. Abbiamo conquistato un oro con la staffetta e due argenti, uno nella categoria under 23 femminile e un argento nella categoria junior maschile. Quindi sono soddisfatto perché sono ragazzi giovani, sono il futuro del nostro mondo e quindi si spera bene per il futuro. Pochi giorni di riposo ad Andorra e poi si riparte di nuovo per un nuovo appuntamento, una nuova gara molto importante. Sì, ancora qualche giorno di riposo qui al mare e dopo si riparte per la Scozia, precisamente a Glasgow, dove si svolgeranno i campionati europei, però questa volta della categoria elite. Quindi avremo i professionisti di questo settore e abbiamo ragazzi veramente capaci di portare a casa una medaglia. Abbiamo i due fratelli Braidot, i due gemelli Braidot che stanno facendo vedere grandi cose in Coppa del Mondo. Quindi oltre lui ci saranno due ragazze molto molto brave, la Eva Lechner che è un'alta tesina e la Serena Calvetti che sono le ragazze dove si difenderanno nel campo femminile. Quindi è un ottimo momento per la mountain bike. Sì, ottimo veramente. Poi per finire la stagione avremo i campionati del mondo in Svizzera, dove lì punteremo con un altro alto tesino che pochi giorni fa ha vinto un'altra gara di Coppa del Mondo. Dopo 15 anni siamo riusciti a ritornare sul gradino più alto del podio a livello di Coppa del Mondo. Questo Gerhard Keschbaumer, un ragazzo di 29 anni, dove io per l'Enzeride e per il campionato del mondo in Svizzera punterò molto. E per la specialità marathon invece ci troveremo ad Auronzo di Cadore in Veneto sulle tre cimi di Lavaredo, una gara durissima dove invece lì si confronteranno i ragazzi della specialità marathon, che è la specialità quella delle lunghe distanze. Sarà un sei ore di gara, quindi molto impegnativa per loro.